Cambio al vertice alla legione Carabinieri Umbria, il generale di brigata Massimiliano della Gala subentra al generale di divisione Francesco Benedetto che lascerà il servizio attivo dopo 41 anni trascorsi nell'arma. La cerimonia per il passaggio di consegni è venuta ieri all'interno della caserma di Corso Cavour a Perugia alla presenza del comandante interregionale dei Carabinieri Podgora generale di corpo d'armata Ilio Cicerio. Massimiliano della Gala, 52 anni, nato da Versa in provincia di Caserta e proviene dal comando generale dell'arma.